ci aspettiamo tutti si presentano questa partita in gran forma l'obiettivo è proseguire nella loro striscia di vittoria 1-0 trova nel gol subito contrasto Arthur un gol bellissimo accalciato di prima intenzione traiettoria fantastica occhio al contrapiede qui prova con lancio lungo è un po' filtrante per Chiesa pallone in rete ed è un gol che vale un altro pezzo gioco fermo c'è un side qui devo dire che c'era anche se di pochissimo occhio al tocco preciso per servire il compagno e c'è un gol straordinario al volo esecuzione perfetta lung ball lung ball grazie a tutti grazie a tutti